Ciao, ok, allora io voglio gente sul palco a ballare i palli di gruppo Ci siamo? E allora? Dai, 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 ok? Vediamo, dai, 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 poi ci possiamo prendere Ci siamo, ci siamo? Allora, ci siamo? Sì, siamo Sì, sei, sei Stai 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 Vi potete unire tranquillamente Salendo da quella rampa Wow, anche le miss si sono unite Quanta bella gente Tanta, tanta roba Adesso Tutti insieme Come fa, come fa Sì, no Sì, no Sì, no Sì, no Wow Wow! E ora te vale? Come broski eh? Si! il giro wow alla la cosa